Quindi come promesso oggi faccio il vlog per provare questa ricetta di pasta dolce che si chiamano maccaroni sweet perché l'ha preparato ieri Dimple per il compleanno del nonno perché Perchè lo dovete mettere prima nel freezer e diventa una specie di gelato E poi ci scegliono anche questo Pane di noce di cocco Invece questo è il cioccolato L'altro è il pan di sal per il breakfast Quindi adesso testiamo questa ricetta che è molto esottica però dovrebbe essere una cosa rinfrescante Non sembra più neanche pasta E' bloccata con crema e condensato E poi diventa una specie di gelatina quindi non sembra più pasta sembra un dessert Allora in Italia non c'è qualcosa di simile un gelato può sembrare un gelato Un gelato Ma non sembra più pasta c'è un'altra ricetta Anche la pasta con consistenza non è più pasta Sembra un cannitto Quindi dovete provare per credere che è buono Che buono? Sì? No è speech verde Ma ecco dei bell sexuali Che buono? erno l'곡amo? Chesco Epi versti è tu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday grandpa, happy birthday to you. Yeah! Happy birthday grandpa! Ah, non il mio face. So, these are other 1400 videos on our channel if you subscribe. So, if you like, see you next video. Ciao, ciao!